Ben trovati a tutti a questa nuova puntata di Insieme, dedicata a sfogliare come ogni settimana i giornali periodici della provincia di Belluno. Ci soffermiamo questa sera su CTG Rando, organo informativo del CTG, Centro Turistico Giovanile, e Bellunesi nel Mondo, il numero di settembre. Iniziamo con CTG Rando, ci soffermiamo evidentemente sull'articolo di fondo perché poi le pagine interne sono un po' il programma delle varie iniziative che appunto il CTG propone. Attimi di felicità, affirma di Suelen, sono attimi di felicità, parla dell'arrivare in cima a una montagna, sono attimi di felicità che vengono scolpiti dentro di noi, che molti non comprendono ma per chi ama la montagna sono preziosi. Non ti ci abitui mai alla loro bellezza, a quella sensazione di essere microscopico davanti a questi giganti rocciosi, a quelle fioriture spontanee dei colori accesi, dall'essere vicini al cielo quasi da toccarlo, dal vedere il mondo da lassù, da quella piccola croce sulla vetta che spesso è un piccolo sogno, un obiettivo, uno stimolo, una sfida per mettersi alla prova. Non si spiega la sensazione che provi quando la raggiungi. L'avercela fatta vale di più di tutta la fatica, del caldo, della sveglia, della strada. Se lì a goderti il panorama ed è in quell'attimo che il cervello stacca e non pensi più a niente. Belli o brutti i pensieri scompagnano. Ci sei tu, il silenzio, l'immensità del cielo, il panorama. Sei grato per avere il privilegio di godere di tutto questo e non serve altro perché la felicità non si può comprare. Le cose che davvero contano non hanno un prezzo e non le trovi in giro. Sono dentro di te, se le sai apprezzare. Buona vita. Ecco Sue Ellen ci fa intuire la bellezza di una fatica spesa appunto per raggiungere qualcosa di bello, di buono, di vero. Ed è anche bello pensare che è un po' un insegnamento di umiltà, l'umiltà appunto di chi va in montagna, che non è tanto il sentirsi quasi nulla. La vera umiltà è avere la consapevolezza della propria statura e di fronte alle montagne capiamo la statura dell'uomo quale sia, quella di essere semplicemente una creatura, una creatura di fronte a Dio e al creato. Grazie proprio a Sue Ellen per queste parole che ci aiutano a pensare. Le pagine interne del CTG, Girando, sono dedicate come dicevo a tutto un programma di uscite, di proposte culturali, di viaggio che caratterizzano appunto il CTG. Molte interessanti iniziative, Berlino, Sudafrica, Umbria addirittura, i mercatini di Natale nella Retino per il prossimo mese di dicembre, con un programma ben dettagliato delle varie giornate, un reportage sul viaggio in Sicilia che è stato fatto e poi mi soffermo infine sull'ultima pagina per questa breve frase di Ancarson, l'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito, torna diverso. Anche queste poche parole ci aiutano a pensare che un viaggio turistico è un conto, un viaggio personale è un'altra cosa e anche un viaggio turistico può avere questa caratteristica, non essere semplicemente raggiungere una meta per poi tornare a casa, ma fare un viaggio che coinvolge tutta la persona, non solo fisicamente vedere dei luoghi, ma anche un viaggio che porta magari anche a una maggiore conoscenza di se stessi. Sono proprio quei viaggi che aprono a una dimensione molto più umana che semplicemente economica, materiale o di carattere ludico. Ecco, grazie anche a CTG Rando perché ci ha dato la possibilità di pensare che viaggiare non è semplicemente andare in giro. Bellunesi nel mondo, il numero di settembre. Valentino del Fabbro, un pioniere nella lotta alla silicosi. Si ricorda appunto questa importante figura di Valentino del Fabbro che è un pioniere, è stato il promotore della legge 780 ed è il ricordo a 40 anni dalla sua scomparsa. Il dottor Valentino del Fabbro, si legge quindi nella prima pagina di apertura, nella terza pagina, simbolo della medicina bellunese, fu un pioniere della lotta contro la silicosi e promotore della legge 780 del 75. Dedicò la sua vita al volontariato e alla difesa dei lavoratori lasciando un'importante eredità umanitaria. Morì improvvisamente l'11 agosto di 40 anni fa e appunto c'è l'approfondimento a pagina 20. L'articolo di apertura del direttore Dino Brida, la lezione delle Olimpiadi, bar sport, curva ultras e quarti posti. Scrive il direttore Brida, l'Olimpiade francese ci ha consegnato in fondo due morali, al di là di tutto quello che è successo. Due morali importanti che precedenti edizioni mai avevano prospettato a chi ama sinceramente lo sport nel pieno rispetto dell'impegno di ogni singolo atleta partecipante. La prima morale riguarda lo spirito di gruppo che deve essere un valore determinante dei giochi olimpici secondo l'ottica del suo creatore nella versione moderna, il barone Pierre de Coubertin che ambiva a migliorare l'uomo e l'ambiente sociale in cui viveva attraverso lo sport. Egli era convinto che forza d'animo, fiducia in se stessi e comportamento corretto raggiungibili con maggiore semplicità attraverso lo sport potessero essere uno strumento efficace per educare e preparare i giovani alle sfide del futuro. La seconda morale è la più bella e la più limpida in chiave olimpica. Ce l'hanno Sciorinata, Giulio Velasco e Fefede Giorgi, i due allenatori delle nostre squadre di pallavolo, l'uno medaglia d'oro e l'altro di legno. Meritano apprezzamento per il coraggio di dire basta all'ansia alla prestazione, all'idolatrazione del risultato eclatante, alla denigrazione di chi non è salito sul podio. Sono tutti meritevoli di elogio e di ringraziamento per avere onorato al meglio il nostro tricolore. Se trasportiamo, scrive ancora Bridda, tutto ciò dal mondo dello sport a quello dello scenario della vita sociale quotidiana, ben si capisce che se ne potrebbe ottenere un ulteriore morale, assai utile a migliorare la convivenza tra di noi. In tal senso, a riguardo del dibattito sui maggiori problemi politici, sociali ed economici, si potrebbe finalmente dire basta al clima da bar sport o da curva degli ultras, che vede gli italiani animati sempre da pregiudizi, animosità, rancori personali e via di questo passo. Anche l'articolo del direttore Bridda aiuta a pensare, prendere spunto da un evento sportivo per allargarlo a una considerazione appunto sui legami sociali soprattutto. Negli articoli interni, il nostro veneto, uno sguardo tra economia, inflazione e sfide sociali, è un articolo molto approfondito, soprattutto da segnalare la mobilità studentesca e capitale umano, opportunità e sfide. Si parla di mobilità studentesca, il Veneto riesce ad attrare un numero crescente di studenti universitari da altre regioni italiane e dall'estero. Nel 2022 la regione ha raccolto circa 3.800 laureati da fuori regioni, mentre ne ha ceduti, tra virgolette, ovviamente 3.100. Ecco, le lauree in abito umanistico e economico sono particolarmente attrattive, mentre per le lauree di scienze, scienza, tecnologi, tecnologia, ingegneri, ingegneri e matematica, i giovani restano in Veneto o quelli che vi entrano sono generalmente più soddisfatti dei loro percorsi formativi rispetto a chi sceglie di trasferirsi altrove. Un altro articolo, pagina successiva, crisi degli affitti, la mancanza di alloggi, minaccia il lavoro e il futuro dei piccoli centri. Si parla della nostra provincia di Belluno, una grave difficoltà a reperire alloggi in affitto e questo incide negativamente su persone e famiglie che si trasferirebbero in provincia attratte dalla disponibilità di posti di lavoro, che però devono rinunciare appunto perché non trovano una casa. Tra i vari motivi c'è anche l'atteggiamento di alcuni proprietari che preferiscono probabilmente lasciare gli immobili sfitti per metterli a disposizione per periodi brevi e ripetuti ai turisti e anche magari una certa loro riottosità all'affitto nel timore di spiacevoli sorprese da parte degli inquilini. Si pensi, questo è un dato che fa riflettere, che in provincia su 180 mila abitazioni la metà non sono occupate. Il problema però non è solo di Belluno ma riveste carattere nazionale. Noi, associazione bellunesi nel mondo, che cosa centriamo? Centriamo, bella, meritevole, apprezzata la nostra iniziativa di coinvolgere le famiglie bellunesi all'estero sulle opportunità lavorative in provincia, quindi per tornare, ma se gli interessati vengono, volessero venire e non trovano casa, cosa si fa? Ovviamente la domanda resta sospesa. Qualche ancora accenno, un patrimonio ritrovato, si parla della riapertura e la rinascita dei serai di Sottoguda che erano stati chiusi, devastati dalla tempesta Vaglia. Qui vediamo anche due immagini molto belle e significative della riapertura appunto dei serai di Sottoguda. Premio Pelmo d'Oro, alpinisti, scrittori e sportivi premiati a Pedavena. Ecco, c'è da segnalare, nella immagine lo vediamo, un ricordo di Don Sergio Sacco che ha ricevuto il Pelmo d'Oro. Don Sergio Sacco, grande persona, grande sacerdote della nostra diocesi, grande uomo di cultura che ci ha lasciato proprio in questi giorni. Don Sergio Sacco, Dossonador, originario del Comelico, premio Pelmo d'Oro alla cultura alpina, ha parlato della sua infanzia di quando aveva 6-7 anni e parla appunto dei suoi ricordi della montagna. Ecco il ricordo di Don Sergio Sacco che merita sicuramente di essere, di appartenere alla nostra memoria preziosa di un uomo che ha dato tanto. Un'ultima parte, abbiamo ancora qualche minuto, mi soffermerei non a sfogliare bollettine periodici ma una breve riflessione legata anche al fatto che fra qualche giorno è la festa di San Francesco d'Assisi e tra le sue parole più chiare e limpide c'è il fatto di diventare, come dice San Francesco, fa di me uno strumento della tua pace. Ecco la festa di San Francesco, tra l'altro patrono d'Italia, ci fa pensare proprio al tema, oggi molto dibattuto, difficile anche da affrontare della pace, sul quale si può dire tutto il contrario di tutto. Certo San Francesco ci porta a forse fare una breve riflessione su questo e dobbiamo tenere conto, è uno spunto che mi viene in modo interessante, è da quanto è successo a Milano qualche giorno fa, c'è stato un convegno a Milano, in diocesi a Milano, in occasione dei vent'anni della nascita della Fondazione Oasis. La Fondazione Oasis è stata voluta dal Cardinale Angelo Scola, che è stato patriarca di Venezia e ora è arcivesco emerito di Milano. È una fondazione che favorisce lo scambio teologico e culturale tra le varie religioni. Ecco, in occasione di questo incontro, in cui questo anniversario dei vent'anni, una testimonianza particolare è stata portata avanti da Monsignor Paolo Martinelli, che ora è vicario apostolico dell'Arabia Meridionale. Monsignor Paolo Martinelli è stato vescovo ausiliare di Milano e ha detto una cosa molto interessante, che adesso vi leggo. L'Occidente, diciamo, Monsignor Martinelli ha perso fiducia nell'universalismo dei diritti. Senza che tuttavia siano terminate le guerre, il numero di conflitti è in continua crescita. Lo scontro sembra la condizione normale delle relazioni internazionali. L'obiettivo sembra l'annientamento dell'avversario o il raggiungimento di un precario status quo, come si vede nello scontro, per esempio, tra Hamas, Hamas e Israele. Un'incapacità radicale a comunicare dove non si vuole convertire l'altro ma cancellarlo. Ecco, queste parole di Monsignor Martinelli credo che ci aiutano a comprendere di più il significato della parola pace come possibilità, come reale possibilità. Allora possiamo pensare la pace dove c'è, come dice Monsignor Martinelli, dove non c'è il desiderio di annientare l'altro. Allora la pace è riconoscimento del diritto di esistere, del diritto di avere una propria cultura, del diritto di esprimere liberamente la propria appartenenza religiosa. E allora questo sempre però nel rispetto dei diritti fondamentali della persona. Ogni uomo in quanto persona ha dei diritti fondamentali che gli appartengono. Si può discutere oppure no su quella che viene chiamata la legge naturale, che viene definita la legge che è scritta naturalmente nel cuore dell'uomo da Dio ed è un riflesso della luce di Dio, della legge di Dio. Ma di fatto se noi ci atteniamo al rispetto dei diritti universali della persona possiamo forse garantire appunto, come dice Monsignor Martinelli, questa possibilità effettiva della pace. Perché dove non c'è rispetto dei diritti elementari ed essenziali della persona non ci può mai essere la pace. E poi quell'altra espressione di Monsignor Martinelli che la pace non è il raggiungimento di un precario status quo. Anche questo è vero. La pace non è semplicemente, come dice anche il Concilio Vaticano II, l'assenza di guerra. La pace non è un equilibrio instabile, un po' come direbbe un cantatore italiano, come quando dice che la vita è un equilibrio sopra la follia. La pace non può venire da un equilibrio instabile, da una misurazione delle parti, da una parte e dall'altra. Ma la pace sta appunto non nell'assenza di conflitto, ma in questo equilibrio stabile che è il rispetto fondamentale dei diritti di tutti e di ciascuno. Un equilibrio stabile che può essere garantito quando l'altro non è una persona da cancellare, ma qualcuno appunto a cui garantire l'esistenza, la libertà, l'appartenenza religiosa. Questo è fondamentale, credo, per ciascuno. D'altra parte è anche vero che quello che si è detto un giorno, che quando tu uccidi una persona, quando vuoi eliminare una persona, non devi mai domandarti chi stai uccidendo, ma a chi stai consentendo di vivere. Ecco, forse questo ci aiuta ad essere uomini e donne di pace. Il tempo a nostra disposizione si conclude qui. Io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato e alla prossima settimana. Grazie a tutti.